Ciao a tutti ragazzi, bentornati sui feriti come sempre Tiz, andiamo avanti con la carriera con la SPAL quest'oggi. Siamo a febbraio del 2024, la nostra quinta stagione, e dopo aver fatto dei grandi gironi abbiamo pescato il Chelsea per gli ottavi di finale di Champions, quindi oggi, se detevi comodi, sarà un episodio molto emozionante perché la nostra SPAL, dopo anni di sofferenza, affronterà il Chelsea negli ottavi di finale di Champions League. E poi siamo andati avanti anche in Coppa Italia, abbiamo battuto la Fiorentina, abbiamo pescato il Benevento, sicuramente sorteggio fortunato, poi siamo arrivati in semifinale contro l'Inter, dove ho preferito simulare, ed è finita 2-2 in casa nostra, però ovviamente ci separa un ottavo di finale molto importante con il Chelsea. Voglio essere come la favola dell'Atalanta, cercare di arrivare ai quarti di finale, so che non è facile, però dobbiamo provarci contro il Chelsea. Avremo prima l'Atalanta, che simuleremo, e poi dopo entreremo nel vivo dello speciale Champions League, che poi è quello che vedete su YouTube. Nel frattempo la squadra è cresciuta molto, Dani Olmo è un 91, Van de Beek è un 89, così anche Kluivert è salito a 90, Romagnoli, Birindelli è un 88, per cui campionato e squadra ormai totalmente allo sbando, scresciuti tutti tantissimo. Ho portato anche dei giovani dalla primavera, c'è il cugino Gasperoni, terzino, c'è questo giovane De Wett, che è già un 70, classico esterno, un po' alla spagnola, ma in realtà è olandese. Dresscode sta facendo bene, l'abbiamo messo in campo qualche volta, ha delle buonissime statistiche da esterno. Secondo me è un esterno molto forte, in un'altra carriera parallela sarebbe potuto essere un bel giovane su cui puntare. È ufficiale, giocheremo con il Chelsea di Ottavi, la gara di andata sarà in casa loro e poi avremo il ritorno al Paolo De Mazza. Andiamo prima a fare la conferenza stampa, dobbiamo fare attenzione, non bisogna sottovalutare la squadra Chelsea. Poi, crede che la formazione Chelsea abbia qualche chance di battere? Può essere, non so, paura sempre di rispondere nelle conferenze stampa. Vista la loro maglia di casa, giocheremo con la nostra seconda maglia, in realtà potremmo usare anche la prima, ma è un po' tirata per le orecchie. Usiamo la nostra seconda maglia, quella oro con i pantaloncini neri. In un'altra carriera avrei detto che è una brutta maglia, ma sono talmente innamorato di questa squadra che adesso mi piace anche la maglia oro con le righine sottili bianche. È tutto, come vedete Nuibello 86, Berindelli 88, Sfurs 86, Romagnoli 90, Teo 85, Pogba 88, Bakuna 85, Dani Olmo 91, Donny van de Beek 89, Kluivert 89, Timo Werner 88. Se non è una preghiera questa non so cos'è. Diluvia per questa partita, lo Stamford Bridge, i Blues contro i righine più sottili del mondo, lo Spalcellona. Entriamo in campo, entrano in campo le due squadre. Sono curioso, qua intanto si inquadra uno striscione per Michael Essien da parte del Chelsea. Allora, il Chelsea giocherà con, attenzione ragazzi, perché vedo Sandro Tonali titolare, l'avevano venduto al Chelsea. Ora ricordo purtroppo, allora hanno ricomprato Lukaku, che era già cresciuto nel Chelsea. Hanno Pulisic, Lukas Piason, Lo Celso, Tiago, Tonali, una difesa molto forte e in porta a Kepa. Kepa che mi ha fatto già sclerare con il Newcastle, ma incredibile. Sandro Tonali al Chelsea con numero 7. L'abbiamo fatto crescere dopo aver fatto comunque già il suo nel Brescia. E ora è il suo momento di giocare la Champions League, però contro la sua ex squadra. Partito, partito Timo Werner. Timo, 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 Timo Werner! Palla fuori. Si divora il gol che poteva aprire subito la partita. I gol fuori casa sono pesanti ragazzi, mi raccomando. Ci sta questa emozione di inizio gara, ma non facciamo più errori. No, lasciala, lasciala. Bravissimo, bravissimo Kluivert. E allora Timo, Timo, Timo Werner! 0-1 in vantaggio a Spal. Qua Stamford Bridge aveva già sbagliato un gol. Kepa ci arriva, ma non abbastanza da deviare il pallone fuori dalla porta. Siamo in vantaggio contro il Chelsea. Grazie Kluivert che mi ha lasciato libera la palla. Grazie. Qua Kepa l'aveva presa, l'aveva presa, ma non abbastanza da buttarla fuori dalla porta. Rivediamo. Un colpo preciso. Ci ha provato il portiere del Chelsea. Ragazzi, la palla è entrata comunque, 0-1. E poi Donny van de Beek. Io voglio il gol dell'uomo di Champions, che è Dani Olmo! Miracolo di Kepa! Miracolo di Kepa. Stiamo giocando molto bene, ragazzi, da squadra matura, da squadra che può puntare alla Champions League. Rivediamo Dani Olmo, bellissimo colpo di destro, grande parata di Kepa, straordinario portiere. Paul Pogba. Paul Pogba. Il cross. Dentro Kluivert di testa, non è la sua specialità. E si vede, palla fuori. Dai, Timo! 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 Para ancora Kepa. E se il Chelsea è in partita è grazie a quest'uomo qua inquadrato. Calcio d'angolo. Pogba da calcio d'angolo. Attenzione. La palla rimane lì. Voglio regalare 40 minuti di ottavi di finale a Giovanni Gasperoni. Rischierò. Sembrerò un pazzo. Ci provo. Dentro Gasperoni. Occhio allo Celso. Attenzione, Nubel! Chiude su Lukaku. Dani Olmo. Bellissimo scavetto per Timo Werner. Dentro. Dai! Tiro! Palla alta! Sbaglia Juninho Bakuna. Fuori Justin Kluivert. Bene, non benissimo. Dentro. E zecchia il barco. Vai barco. Voglio vedere se la mia idea di metterti è stata azzeccata. Barco. Barco. Ne salta uno. Barco. Barco. Tiro. Deviazione. Calcio d'angolo. E zecchia il barco. E zecchia il barco. Calcio d'angolo. Un applauso a Timo Werner che ci ha portato in vantaggio dentro il sergente di ferro. Bakuna spazza bene. Il sergente. E voglio che sia una notte del sergente. Il sergente. Il sergente. Il sergente para. Che pa! Attenzione il sergente. Rovesciata. Gasperoni. Attenzione Nubel. Nubel. Miracolo di Nubel. Miracolo di Nubel. Miracolo di Nubel. Miracolo di Nubel. Calcio d'angolo. Per il Chelsea. Il tempo è scaduto da due minuti però eh. Fuori barco di testa. Barco di testa. Via. Finita la partita. 0-1. Era importante vincere qua lo Stanford Bridge. Con lo 0-1 andiamo in casa nostra con due risultati utili su tre. Molto bene ragazzi. Molto bene. Che pari Zabagala ha salvato tutto. Ha salvato tutto. Ha fatto almeno 2-3 miracoli. Questa partita poteva andare avanti meglio ma ha abbassato il gol di Timo Werner che si congratula con i suoi compagni. Peccato per il sergente di ferro nel finale. Non stato cinico nemmeno io. Dovevo fare meglio. Peccato. Peccato. 0-2 sarebbe stato il risultato perfetto da firmare a inizio partita. L'unico tiro in porta a loro è stato un rischio fottuto per noi. Ma è arrivato il miracolo di Nubel. Bayer Leverkusen pareggia in casa con l'Atletico Madrid. In casa dovremmo fare una grande partita ma ci credo. Ok. Ci credo perché questo Chelsea mi sembra affrontabile. Dobbiamo pensare alla prossima partita. Testa. Testa. Testa ragazzi va benissimo. Va benissimo. Sicuramente abbiamo meno esperienza di loro. Quindi abbiamo dovuto Nubel decisivo. Lo sconfermo. Ho fatto una parata sola ma valsa davvero tanto. E andrei anche su Van der Linden. Straordinario. Il nuovo Van der Meide. Simula tutto. Bene. Non sale nessuno. Siete giovani. Siete forti. Ma non salite. Questo è il vostro difetto. Possiamo andare a giocare allora contro l'Inter. Abbiamo deciso di fare anche il ritorno della Coppa Italia. Non era prevista ma semifinali di ritorno con l'Inter è comunque una bella partita da vedere. Ed è davvero importante andare in finale di Coppa Italia e provare a vincere anche quella. Ormai non ci poniamo limiti. No limits. No limits for Sparcellona. Andiamo in campo a San Siro. Eccoci a San Siro. Allora questa è la curva ospiti. La conosciamo. Ovviamente ormai in Italia sono numerosi i tifosi della SPAL che ormai si prepara ad essere una delle principali potenze del calcio italiano e quindi anche tifosi occasionali improvvisamente iniziano ad andare allo stadio a supportare questa magnifica squadra. Si continua a parlare di Justin Kluivert con cui ho avuto una piccola litigata nel pre-partita ma l'amore non è bello se non è litigarello. Purtroppo grazie FIFA perché siamo a marzo finalmente hai risolto tutti i bug e quindi adesso le formazioni si vedono bene. Tutti i giocatori c'è scritto Undefined. L'attacco è Cutrone-Gabriel Gesùs. Cutrone attenzione è fortissimo qua. Poi abbiamo Podens, Amiri, Awar, Vecino e abbiamo in difesa Schar, Sule, tutti con la umlaut. Schar, Scher, Sule, Gravillon che non so chi sia. Castels che è molto forte. Ha fatto tante parate già in passato. Però ormai lo sappiamo dopo cinque anni FIFA è irriconoscibile. Gabriel Gesùs è sicuramente quello che mi spaventa di più. assieme a Awar che poi non devo ancora capire bene come pronunciarlo ma è un giovane del Lione molto forte. Dani Olmo. Il tiro di Dani Olmo. Para Castels, miracolo di Gravillon che non so chi sia ma a questo punto direi che è forte. Voglio provare allora col tiro da fuori di Bacuna. Palla fuori. Pog, Pog. Dai, dentro. Donny c'è spazio. Donny van de Beek. Il donnaio di corte 0-1 qua a San Siro. Donny van de Beek. Il donnaiolo. Il donnaiolo. Il donnaiolo. E vado ad abbracciarmi il donnaiolo. Vieni qua. Vieni qua Donny. Sono riuscito a fare l'esultanza dell'abbraccio. Grazie Donny. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua Donny van de Beek. Attenzione Rafa. Rafa attenzione. Arriva subito l'uno pari dell'Inter con Gabriel Gesùs qua a Vicari battuto da un colpo i testi di Gabriel Gesùs. Con questo risultato passerebbero loro. Il tiro questo è gol. È gol, è gol, è gol, è gol. Para Vicari. Miracolo di Antonino Vicari. Grazie Antonino. Timo. Dentro. Dani Olmo. Dani Olmo. Dani! Para. Castels. Dentro. Donny. Fermato da Fabian Scherr. A cui però non posso mandargli perché gli voglio troppo bene. Ciprienne. Calcio d'angolo. Castels. Fa una cosa che non ho mai visto fare dai miei portieri in ormai quasi sette stagioni. Cinque con la spalla, due con il Newcastle. Cioè prende la palla con le mani. Gol. Gol fantastico. Imprendibile di Awar. Da posizione mostruosa. Vabbè. Amiri. Scusatemi. Gol di Amiri. Nadiem Amiri. Ok ragazzi. Qua serve il 2-2. Ti prego sergente sei l'unico che può battere anche i bug. Il sergente. Il sergente. Il sergente di ferro. Para. Castels. Dani Olmo. Ti prego da calcio d'angolo. E vabbè però ragazzi. Dove cazzo esce Castels a prendere sta palla? Finisce la partita. Buona finale all'Inter. Io non ne posso più di giocare a sto gioco. Andiamoci a giocare la Champions League. Buonanotte. Ho fatto subito un gol che non avevo mai visto fare. Io in Coppa Italia ogni volta che gioco mi cacciano fuori ma a calci in culo. Già all'Inter mi ricordo un paio di anni fa no? Un paio di stagioni fa. Che avevo perso al novantesimo. Poi avevo pareggiato al novantesimo. Supplementario ho perso al centoventesimo. Poi adesso mi hanno tirato fuori a calci in culo in questo modo. Io non posso. La Coppa Italia è stregata per me. Abbiamo un vantaggio minimo di 0-1 in casa loro. Quindi dobbiamo stare molto attenti soprattutto in fase difensiva. E questa è l'occasione per dimostrare a tutti che noi invece in Coppa ce la caviamo dopo aver vinto un campionato. E essere invece usciti in Coppa Italia è a tutti gli effetti la Champions League adesso la competizione su cui dobbiamo puntare maggiormente. Gli facciamo mettere stavolta la maglia alternativa a loro. Noi righine sottilissime per questa gara fondamentale. Sognando i quarti di finale. Inquadrati i giocatori del Chelsea che giocheranno con la terza maglia. Inquadrato Tonali, nostro grande ex. Dovrebbero essere confermati tutti. Vedo per ora i difensori, i terzini. Cioè Kepa, portiere pazzesco, fortissimo. Invece inquadrati i nostri giocatori, sempre i soliti. In Champions abbiamo il nostro modulo e non lo cambiamo. Al massimo c'è una variazione dell'ala a sinistra ma il resto rimane sempre uguale. Questa è una squadra che merita di andare avanti. E proveremo a farlo quest'oggi davanti ai nostri tifosi. In uno stadio per una squadra regionale che invece accoglie una partita così importante di Champions League. E allora foto, ricordo, sperando che non sia l'ultima di questa competizione. Va bene, diamo via la partita. Alla fine di questi 90 minuti sapremo chi andrà ai quarti di Champions League. Bravo. Bravo. Incredibile. Fortissimo Andersen. E Ginter, due difensori mostruosamente forti per il Chelsea. che ci riprova con Lukaku. Il tiro. Miracolo di Nubel. Grazie. Grazie Nubel. Grazie Nubel. Grazie Nubel. Miracolo di Nubel. Occhio. Via, 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 via. Palla fuori. Palla fuori. Lo Celso sbaglia. Timo. Vai, Kluivert. Dai, se sei veloce. Justin. 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 Il tiro di Justin para Kepa Rizzabalaga. Calcio d'angolo. Dai, un gol di testa a calcio d'angolo. Lo voglio. Kepa. No, porta vuota. Teo. Teo porta vuota. Non se l'aspettava chiaramente. Teo porta vuota. Va a vuoto Kepa. Sbaglia Teo. Occhio. Occhio. Palla fuori. Palla fuori ragazzi. Abbiamo fatto l'ultimo strattonamento pre-tiro. Però entra Draxler che è un altro fenomeno. Dentro Barco. Barco, Barco, Barco. Ti prego. Ti prego, Ezekiel. Ti prego. Fuorigioco. Allora non alzate la mano, ragazzi, se non è fuorigioco. Attenzione, Lukaku. Calcio d'angolo. Questi devono segnare per forza. Devono farmi andare i supplementari per il bello dello spettacolo. Attenzione, Tonali. Barco ci prova di testa a spazzare. Dai, ti prego. Incredibile, ragazzi. La palla rimane lì. Lo sapevo che prima o poi mi avrebbero fatto subire gol. Ed è arrivato questo momento. Incredibile. Ho premuto non sapete quante volte per cercare di spazzare questo pallone. Adesso ve lo farò rivedere. Qua, chiaramente, io ho spazzato con Romagnoli. Ho spazzato con Scurso. Scurso l'ha lasciata di petto lì. Guardate qua. 1-0-1. Vabbè, siamo 1 pari. Va bene. Barco. 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 Barco! Miracolo di Kepa. Finisce la partita. 0-1. Si andrà a supplementari. Va bene, abbiamo iniziato con Kwame. Finiremo con Kwame. Iniziamo a supplementare. Attenzione. Kwame! 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 Kwame subito! Kwame subito! Dai, dai, dai! Kwame subito! Kwame subito! Kwame subito! Kwame! 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 Non ci credo! Non è possibile! Grazie! Due minuti c'è a me! Grazie, Cristian! Grazie ad essere un incubo! Se segna l'ora, passa l'ora! E' zecchia il barco! Ancora! E' zecchia il barco! Dentro! Miracolo di Kepa! Ma era fuori gioco! Era fuori gioco! Stammi dietro, Kwame! Ok? Che ti do il pallone come prima, però devi starmi dietro! Dani! Attenzione! Kwame di testa, Kepa! La tocca sopra la traversa! Kwame sta diventando un uomo decisivo! Qua, attenzione, usano un altro cambio! Non me lo dicono! Iglesias! Calcio d'angolo! La palla rimane lì! Teo! 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 Teo Hernandez! Teo Hernandez! Abbassiamo la voce! Ma esultiamo! E abbracciamoci tutti insieme! Teo Hernandez! Teo Hernandez! Qua è successo un miracolo! Qua è successo un miracolo! Qua è successo un miracolo! Ha sbagliato Kepa di nuovo! Ma non ha sbagliato ancora Teo Hernandez! Ragazzi, è la prima volta che riesco a giocare in maniera decente un supplementare di Champions League così! Non me l'aspettavo minimamente! Bacuna! 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 Pog! 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 Pog Bacuna dentro! Come a me! Come a me! La finta! Dentro! Bacuna! Palla fuori! Ti prego! Perché Gionigno? Perché Gionigno? Sto a giro di tutto per farti segnare Gionigno? Perché a me? Perché tu? Perché adesso? No, Barco, non t'ho visto! Dai, adesso! Adesso t'ho visto! Barco! 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 3-1! Ezekiel Barco! Partita chiusa! Partita chiusa! È finita! 122esimo! Ezekiel Barco! Ezekiel Barco! Ezekiel Barco! Ezekiel Barco! Ezekiel Barco! Piccolo, ma con tanto amore da dare a questo ragazzo! Ezekiel Barco! È stata la partita più incredibile che potevano giocare! Io ho detto solo 0-1, ho detto è finita, no? L'avete pensato anche voi! Io lo so che l'avete pensato anche voi! Invece stavolta no! Fischia l'arbitro! 3-1! E si va avanti! Champions League esplode! Il pubblico! È una gioia immensa per tutti noi! Dopo 5 anni il sogno Champions League non si ferma! Si è fermato la Coppa Italia ma non la Champions League! Il cambio di Christian Kwame entrerà nella storia! Il cambio è merito vostro ragazzi! È merito vostro che mi avete detto di mettere Kwame! Che figata! 9,4 Kwame! Solo 5,8 Werner che qua ha perso lo scontro! Tutti gli altri prestazione autorevole, autoritaria! Allora, Spal Chelsea passa la Spal! Bayern Leverkusen batte l'Atletico Madrid! La Juve passa e batte il Bayern Monaco purtroppo! Vedete io dico purtroppo perché non voglio incontrare le italiane! Però il Rebull Lipsia batte la Lazio! Il Paris Saint Germain batte il Milan! Il City batte il Monaco! La Juve batte il Bayern Monaco e quindi va bene! Passano Lipsia, Paris Saint Germain! Poi abbiamo di là il Liverpool che è in vantaggio 1-0 ma c'è il ritorno! Barcellona Arsenal 2-1 per il Barcellona ma c'è il ritorno! È passato il Bayern Leverkusen e siamo passati noi! Allora, arrivati a questo punto ragazzi non so chi trovare sinceramente! Forse fra queste quattro metterai prima Lipsia poi la Juve! Poi le altre due! Perché la Juve si può battere! Ovviamente speriamo nel Bayern Leverkusen ma non è detto perché si ha battuto l'Atletico! Grazie! Allora, Teo Hernandez merita tutti i complimenti! Bravissimo Teo! Una vittoria agevole! Agevole cosa che non ho più... Sono distrutto! Ora dobbiamo pensare alla prossima partita! Tonali tra i migliori in campo lo sapevo che me l'avresti chiesto! Abbiamo fatto la nostra partita! Ciao Sandro! Mi dispiace! Grazie per quello che hai fatto per noi! Però io lo sapevo che mi avrebbero fatto una domanda su di te e dovevo rispondere per mandarti a fanculo! Ho una paura fottuta! Siamo col Bayern Leverkusen! Vabbè, poteva andare peggio! Poteva andare peggio ragazzi! È andato bene il sorteggio! Allora, Juve-Liverpool! City-Lipsia! PSG-Barcellona e Leverkusen-Spal! Sono forti questi! Sono forti per forza! Allora, Diop! Molto forte! La libellula ivoriana! Fraser! Guarda che quanti nomi tornano! Poi c'è Lop! Antoni Lopez! Hanno Icardi e Dolberg! Porca troia! Hanno Goretzka 88! Zaccaria 86! Radeki 83! Secondo portiere! Bailei 88! Avers 92! Diabì 82! Bellarabi 75! Arezzos 81! Rechic 82! Hanno Federico Chiesa 86! William José 81! Rodrigo 80! Hanno Holland 84! Hanno tantissime squadre come vedete! Non so se devo essere contento di sto sorteggio ragazzi! Un ringraziamento speciale agli eroi che hanno contribuito a passare il turno contro il Chelsea! È stato uno degli episodi più emozionanti della mia vita! Lasciate un bel mi piace, un commento, seguitemi su Twitch, Instagram, Telegram, trovate tutti i link in descrizione! Ci vediamo prestissimo con un prossimo episodio! Bella ragazzi!